Sì, sì, sentite un applauso a Grigio Piero. E a tutto lo sanno a te, e speciali voci, e speciali personali, viste, asso di viste, e precisamente a voi, grazie, grazie, grazie. Un applauso, alla famiglia. Volevano le nostre. Volevano le nostre. Vedi, mi vuoi affattare, a ascoltare. Signore e signori, spegnate il 06. Signore e GR oh, l'abbiamoAR ma anche insieme! Signore io! Signore io! Signore io!verevo! No!